Bella bella a tutti ragazzi sono Wilde bentornati in questo video e oggi ragazzi siamo su un luogo molto famoso che sicuro voi avrete giocato StumbleGuys Dove io muoio sempre Perché il mondo? E dove io ci ho fatto già dei video Tu che caccia entri nel mio video? Vabbè rimani citando Non lo so mi piace entrare nei video bello si In che video tu sei entrato? Beh sono i miei Comunque ragazzi arriviamo ai 50 iscritti e vi metterò la mia texture pack insieme a quella di Alitis Per Java praticamente una texture pack per le Bedwars Molto carina Molto Quando dico molto è carina Comunque Alitis che non sono Scrivete se avete Minecraft Java Perché se così non fosse vi regaliamo l'SP No in realtà vi regaliamo la texture pack per Bedwars se avete Minecraft Bedwars Però qua ci vorrà un pochettino più tempo Cosa ha fatto Alitis? Che ha fatto? Au 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 Gu! Au 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 Au! A tribù Noi siamo tribù ingiane con il ballo Guarda il nostro ballo è più bello di tutti gli altri Comunque Io ho circa 86 dividi perché sono caduto e non cadere non cadere vabbè ma dici su non inciappare nella droga no mi distorcio no la cabus il cabu il cabu mi piace giocare ma sono già morti tutti praticamente praticamente si è stato eliminato no perché ti sei buttato in acqua come sono buttato ho perso la finale e questo video forse non uscirà neanche perché tra le troppe cose non uscirà il video comunque alitis ha una cosa che mi piace tanto mantiene la calma quanto no quello è corto mantengo la calma e cagli mantieni la calma facilmente anche quando vinci praticamente tanto quando non vincerei mai nella vita sicuro no ho vinto alitis ragazzi io devo ammettere che questo video non lo volevo neanche editare ma mi tocca perché ho vinto alitis perché ho vinto alitis ma che so che so